Spesso in tv ci capita di vedere all'interno dei documentari le linee di Nazca, queste linee gigantesche, questi disegni maestosi che non si conosce la provenienza, ma soprattutto sono nel deserto e nonostante le intemperie queste linee non si muovono. Io sono stato proprio lì nel deserto di Paracas, è lì che ho incontrato Nazca, sono arrivato fino al deserto dove c'è il mirador, la miradora, dove questa struttura di ferro, dove al di sopra si può osservare qualche linea, per vedere tutte le linee bisogna invece partecipare ai tour in aereo, si prendono questi aeroplani da 4 o 6 posti e si fa il volo di Nazca per vedere tutte le linee. Sono numerosi disegni, hanno numerose simbologie e non si sa la provenienza, qualcuno parla di disegni agrari che servivano per l'irrigazione, qualcun altro parla di linee aliene, ebbene sì, non si sa molto di tutto ciò, ma di sicuro si sa che sono delle opere stupende, il territorio è patrimonio mondiale dell'umanità, non si può camminare su quella terra ed è severamente vietato camminarci sopra, ma è costantemente controllato, ci sono le forze dell'ordine tutto intorno, nel perimetro tutto intorno affinché la gente non possa entrare. Una cosa molto simile l'ho incontrata a Paracas, dove c'è il candelabro di Paracas, questa grande scultura, ma che dico, questo disegno sulla sabbia, che nonostante il vento e le intemperie non si va a muovere, sembra disegnato con un dito, mentre invece ci rendiamo conto che è disegnato con altri strumenti e soprattutto è un qualcosa di enorme. Ci sei mai stato? Se sì o se ci vuoi andare, lascia un commento.